Ok, partita equilibrata fra due buone squadre che ovviamente hanno cercato di superarsi ma anche molto attente a non concedere. Sicuramente il fatto che abbiamo avuto la possibilità perché c'è stato annullato un gol c'è il rammarico che probabilmente questo gol fosse regolare. Di conseguenza mi sembra che il risultato sia giusto contro una buona squadra e ben organizzata come la Rezzana.